we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi un bel po di novità per quello che riguarda il futuro di fortnite e le grandi domande che ovviamente tutti ci stiamo ponendo i veicoli arrivano non arrivano dove sono ma parleremo anche di alcune skin eliminate di novità per l'ambito e sports e tanto tanto altro prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente al primo argomento di oggi e non poteva che essere ahimè un post ufficiale nella pagina tweet di fortnite che dice i nostri avvocati stanno in questo momento investigando per cercare di risolvere le ultime pratiche per mettere in in pista no per mettere pubblicamente i veicoli ovviamente i nostri avvocati è tutto ironico ma purtroppo ragazzi le macchine i veicoli subiranno un ritardo notevole arriva purtroppo anche un'ultima frase che vedete la scritta sotto expect a few weeks until we are road ready mancheranno delle settimane prima che le strade saranno pronte questo ragazzi potrebbe voler dire una cosa il fatto che parlano di settimane potrebbe appunto annunciare un posticipo della season alla fine loro nel trailer di questa ci hanno fatto vedere i veicoli quindi è certo che arriveranno nella stagione 3 sappiamo però che stanno già lavorando alla patch 14.00 quindi non dovrebbero esserci ritardi incrociamo le dita e speriamo dato che l'ultima patch è la 13.40 che arriverà fra un paio di settimane potrebbe essere l'ultima quella buona per vedere finalmente i veicoli tra l'altro appaiono sempre delle novità dato che stanno davvero lavorando sulla sistemazione di tutto quelle che vedete qua sotto ragazzi sono le feed eliminazione che si vedranno in game quando qualcuno verrà chillato con un veicolo quindi ad esempio eliminated with a sedan eliminated with a taxi eliminated with a beer beer sta per orso ma in realtà è il pick up eliminated with a whiplash oppure forgot to set the parking brake probabilmente quando esplodi con la macchina dice hai dimenticato di mettere il freno a mano ragazzi quindi una novità anche questa è anche questa siamo sicuri finalmente di quanto sarà la salute dei veicoli divisa in tre veicoli piccoli 800 di salute medi 1000 e grandi 1200 sappiamo anche quanto avremmo di autonomia nel serbatoio per quelli piccoli 4 minuti e 45 secondi per quelli medi 3 minuti e mezzo e per quelli grandi la stessa cosa 3 minuti e mezzo tra l'altro vi faccio vedere anche uno spezzone video un animazione perché questa sarà l'animazione del personaggio che utilizzerà la tannica di benzina la jerry petrol can che vi ricordo potrà essere appunto utilizzata per dare del carburante extra potremmo portarla in giro con il il pieno e quindi dare un po di autonomia in più ai nostri veicoli insomma ragazzi prima di parlare di un altro argomento è stata trovata invece una ltm dedicata ed è davvero molto interessante vi leggo direttamente la traduzione guadagna stelle consegnando passeggeri in un taxi le stelle bonus possono essere trovate gli elims non so cosa sia fanno anche cadere le stelle nelle squadre prima di raccogliere il numero target il primo che raccoglie il numero di target di stelle vince se vieni distrutto ti rigeneri con un nuovo taxi quindi arriverà anche qua una modalità tutta dedicata alla guida una specie di air royale che era una modalità ve la ricordate quella con gli aeroplani che non c'entrava nulla con il battle ma si sparava comunque e si facevano cose molto molto belle e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ancora una menzione rapidissima sulla galaxy scout vi ricordo che il 25 il 26 ci saranno ci sarà il torneo della galaxy cup i primi 10.000 in europa vinceranno l'outfit ma non preoccupatevi perché potremmo ottenerlo tutti arriva finalmente una notizia ufficiale il 31 luglio lo shop appunto trovere nello shop troveremo il bundle della galaxy scout per chi non lo sapesse è fermato ovviamente dalla skin ci sarà anche una sua copertura il deltaplano dovrebbe forse essere quello del vecchio galaxy non me lo ricordo e invece il suo backpack vi ricordo anche che dovrebbero esserci i doppi picconi il prezzo del bundle complessivo credo si aggirerà tra i 2000 e i 3000 vbucks per fortuna non dobbiamo spendere soldi veri ma quindi se avete salvo al mondo nella versione fondatore recuperate un bel po di vbucks mi raccomando perché se la volete ce ne sarà bisogno e volevo anche far vedere molto rapidamente uno spezzone direttamente in game della skin ecco come si presenterà non mi fa impazzire sinceramente è molto carina perché appunto questa particolarità della copertura galaxy su tutto l'outfit però diciamo niente di così stratosferico eccezionale questo appunto una breve una breve spezzone di come sarà la skin in game se vi piace ragazzi scrivetemelo qua sotto nei commenti e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché vi ricordate alcune di queste skin che vi avevo già proposto nelle settimane precedenti dei video news qua abbiamo una coppia di skin che verranno rilasciate insieme come vedete maschera per entrambe lei purtroppo non la vede c'è andavanti io il pesce atlantide che è uscito ieri il madcap che è appunto una skin che ormai è già un bel po' che è stata spoilerazzata ma non è ancora uscita e purtroppo ragazzi l'ultima skin l'agent johnsy è stata rimossa dai file di gioco quindi non è più disponibile sparita nel nulla è un peccato perché devo dire era una skin pulitissima l'avrei giocata molto molto volentieri ma come informazioni io ve la dico purtroppo non uscirà mai o almeno non per adesso in quanto l'hanno eliminata e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché tra 30 minuti ragazzi alle 9 del mattino di oggi ci sarà un nuovo abbassamento del livello dell'acqua questa è la minimappa che vedremo una volta ovviamente aperta dopo le 9 di oggi e come vedete dai direi che manca poco prima di essere ritornati a come conoscevamo la mappa in questo capitolo 2 di fortnite le terre stanno riemergendo pesantemente qua ci ricolleghiamo ancora un attimo al discorso dei veicoli potrebbe essere giusto anche il discorso di dire vogliono aspettare la fine proprio l'ultimo livello dell'acqua per far uscire i veicoli e quindi poi veicoli nuovi season 4 nuova tanta tanta roba devo dire che mi piace tantissimo così la mappa riemerge completamente foresta abbiamo la parte in basso a sinistra ancora piena d'acqua ma che lentamente sta riemergendo e la maggior parte delle città insomma sono tornate tanta roba nuovi punti di spot per le arene e un sacco di divertimento in più e andiamo avanti col prossimo argomento di oggi perché ragazzi delle notizie per quanto riguarda il campo scusatemi degli sport luminosity ha di nuovo un gran team alle spalle per chi non conoscesse luminosity un anno e mezzo fa anche due era veramente sulla cresta dell'onda prima addirittura della fondazione o meglio del passaggio su fortnite degli nrg dei phase insomma delle più grandi catene delle più grandi come si dice dei più grandi team di sports luminosity aveva nella sua fila nelle sue fila ninja cyber pk e krio se non ricordo male adesso ragazzi annunciano i nuovi acquisti muselk alla cima di tutti arriva e quindi farà parte del team ma ce ne sono anche altri che se riesco a trovare ve li dico subito ed eccoli qua ragazzi sono case slakers somerset eclipsy e jumper io purtroppo non li conosco ma voi che magari che seguite un po' di più la parte competitive saprete e quindi ragazzi rivedremo tanta tanta roba ne vedremo nelle belle anche per quanto riguarda il competitive insomma ragazzi anche per oggi ho tutte le news che ho trovato ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando e non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao ciao